Mercoledì 21 marzo 2018, nella giornata mondiale della poesia, è stata presentata alla stampa l'ottantesima installazione della fattoria di Celle, il parco di 45 ettari che si trova a Santo Mato, in provincia di Pistoia, dove Giuliano Gori ha creato una delle più importanti collezioni di arte ambientale al mondo. La Serra dei Poeti è il nome dell'installazione progettata dallo scrittore e architetto Sandro Veronesi insieme al paesaggista e musicista Andrea Mati. Questo è uno dei punti del mondo, il punto di sicuro di questo parco straordinario consacrato alla poesia. L'installazione che mi è stato chiesto di fare, ripescando nelle mie memorie di studente d'architettura, perché io sono laureato in architettura ma non ho mai fatto niente, e alla fine è un simbolo anche questo, perché questi stralli compongono il paraboloide iperbolico, che è una figura mitica dell'ingegneristica degli anni 50, perché può portare delle forze e dei pesi enormi con pochissimo materiale, perché è la forma che resiste, è l'emblema della resistenza per forma nell'ingegneria e nell'architettura del secolo scorso. Per me la poesia è questo, è proprio resistenza per forma, perché con poche parole la poesia porta un sacco di sentimento, di emozione, d'amore, di dolore. I 30 cipressi disposti su quattro filari convergenti all'esterno della Serra vogliono suggerire al visitatore il percorso da compiere verso il punto focale dell'opera. La mia idea è nata dal concetto di unire praticamente le quattro arti, quindi i quattro filari rappresentano la musica, l'architettura, la letteratura e l'arte visiva, e praticamente queste quattro arti conducono chi entra nell'opera verso un fuoco. Questo fuoco è il punto in cui le arti aiutano a comprendere, a chiarire il proprio pensiero. I cipressi rappresentano gli artisti che conducono appunto verso questo fuoco, da cui poi ripartire verso, diciamo, con le idee più chiare, quindi aiutati dall'arte. L'arte che consola, l'arte che aiuta, l'arte che illumina. Il parco riaprirà a maggio con le visite guidate dopo essere rimasto chiuso per alcuni anni a causa della terribile tempesta che il 5 marzo 2015 ha sradicato 500 alberi rendendo inagibile tutta l'area. Quando io sono arrivato a Celle ho trovato una cosa straordinaria. Un grande poeta del 1800, Bartolomeo Sestini, aveva fatto per l'appunto una grande voliera, che è un'opera meravigliosa che ha tutti i crismi dell'arte ambientale. Il padre lo volle architetto, ma lui era un poeta. E l'unica opera che lui ha lasciato è quella di Celle che abbiamo noi. Per cui nel tempo abbiamo qui Veronesi, per esempio, Sandro Veronesi, che come sapete benissimo è stato il letterato più premiato d'Italia, ha vinto tutti i premi letterari. Il padre lo volle appunto anche lui architetto, ma non ha mai usato la squadra. Invece il primo lavoro di Veronesi come architetto ha realizzato questo. E si congiunge, questa ottantesima opera, si congiunge con quella di Bartolomeo Sestini perché parte dallo stesso preciso crisma. La Fattoria di Celle, fondata da Giuliano Gori negli anni 70, ha raccolto negli anni opere di alcuni degli artisti contemporanei più importanti al mondo, diventando un esempio unico in Europa di arte ambientale, un laboratorio vivo che continua ad essere visitato e studiato da un pubblico di studenti, critici e appassionati d'arte. La Fattoria di Celle è una collezione straordinaria e rappresenta la contemporaneità e la testimonianza di come la regione toscana sia nel suo percorso culturale, non solo legata alla straordinaria cultura, tradizione rinascimentale, alla sua preziosa storia sedimentata sul territorio, ma sia attiva, sia una parte dinamica e propositiva. La collezione di Celle in questo è l'elemento di traino, una sorta di avamposto, una esplorazione continua.